Buongiorno a tutti, mentre entrate in aula vi do il benvenuto a questo che è l'ultimo appuntamento del ciclo di webinar organizzati dall'azione social del progetto riformativa, ecco grazie, mi state dando un riscontro, se mi vedete mi sentite correttamente, ben trovati e buongiorno, questo è l'ultimo dei 9 appuntamenti che abbiamo realizzato nell'ambito di questa azione di riforma attiva, che era finalizzata a rafforzare le competenze sull'uso dei social da parte della pubblica amministrazione, come sapete abbiamo avuto degli incontri che hanno riguardato tematiche trasversali, aspetti giuridici, poi abbiamo avuto specifici approfondimenti rispetto all'utilizzo di particolari piattaforme, abbiamo parlato di Twitter, di Instagram, di LinkedIn, di Facebook ovviamente e adesso ritorniamo e concludiamo questo percorso con un webinar dedicato alla trasparenza, a una trasparenza che oltre ad essere un prezioso strumento di prevenzione della corruzione, però è anche una leva di partecipazione e quindi questo webinar punterà proprio a analizzare anche della trasparenza l'importanza dal punto di vista comunicativo, per questo il docente che tra poco vi farà lezione su questa tematica farà un escursus normativo, ma si soffermerà moltissimo sull'importanza della trasparenza, dell'uso dei social e della comunicazione a fini di trasparenza. Quindi io vi ricordo prima di dare la parola a Sergio Talamo che oltre ad essere docente docente di comunicazione, direttore della comunicazione di Forma SPA e anche coordinatore del gruppo di lavoro per la riforma della comunicazione pubblica e social media politica nazionale, che è un gruppo di lavoro voluto dal Ministro Fabiano Dadone che è insediato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e che ha portato anche alla presentazione di un documento di indirizzo per la riforma della legge 150, che al momento sta lavorando invece sulla tematica della social media politica, quindi sulla necessità di dare delle linee di indirizzo che rendano standardizzino un po' la gestione dei social da parte della pubblica amministrazione italiana. Allora, fatta questa premessa e dopo aver ricordato che potete in chat porre domande al relatore che poi risponderà verso la conclusione del webinar, lascio la parola a Sergio Talamo e vi auguro un buon webinar. Buongiorno a tutti, noi oggi ci troviamo a confrontarci su un tema che è diventato centrale nell'amministrazione italiana, ma di fatto proseguiamo un percorso che è cominciato molti anni fa. Ricordo un incontro, un convegno che venne organizzato dall'Associazione della Comunicazione Pubblica dell'amico Piercarlo Sommo nel 2013 che si chiamava Sotto la trasparenza niente. Con questa frase una delle associazioni della comunicazione voleva mettere in evidenza che si rischiava, ed eravamo praticamente agli albori del percorso della trasparenza legislativamente riconosciuta dal decreto 33 del 2013, c'era il rischio di finire in una sorta di terra di nessuno, di norme sancite ma non vissute, non applicate, che non riuscivano a trasformare una prescrizione normativa in un diritto. Da quel percorso noi venimmo fuori con l'idea di creare un gruppo di pressione, chiamiamola così, che chiamiamo della trasparenza comunicativa, un tavolo sulla trasparenza comunicativa, cioè la trasparenza che diventa un pezzo della comunicazione pubblica, perché in effetti non è altro che una declinazione della necessità di un dialogo con il cittadino, intuendo già nel 2013-2014 che il rischio era esattamente il contrario, cioè che la trasparenza venisse attratta in un'altra sfera dell'ambito amministrativo, che è quello giuridico-legale, che è una sfera chiaramente fondamentale per uno Stato di diritto, però nello stesso tempo non è l'unico e quindi in pratica noi oggi viviamo l'esito di quella attrazione fatale. A proposito di sotto la trasparenza niente e attrazione fatale, sono due richiami cinematografici a due film e in effetti penso che stiamo proprio bene insieme. Siamo arrivati all'attrazione fatale per cui l'amministrazione in pratica gestisce la trasparenza esclusivamente come una funzione giuridica legata all'anticorruzione, da questo nasce il rischio che l'età della trasparenza totale, perché nel frattempo lo vedremo adesso in questo nostro percorso, è intervenuta il decreto 97-2016 che ha istituito il cosiddetto foglia italiano, il rischio è che questo tipo di svolta resti ancora a lungo esclusivamente come un fatto formale non percepito, non incisivo nella vita pubblica. E per questo abbiamo nel frattempo il Formez ha sviluppato un lavoro molto intenso sull'uso dei social media nella pubblica amministrazione con delle pubblicazioni che già c'erano state prima del 2013 con un manuale d'uso del 2012, quindi in sostanza anche anticipando quella che sarebbe stata l'esplosione di questi nuovi mezzi di comunicazione, poi nel 2017 e nel 2018 abbiamo prodotto degli ebook liberamente scaricabili dal web che si chiamano manuale in social media API, istruzioni per l'uso. Adesso, con il gruppo di lavoro cui accennava Roberta, nel 2021 puntiamo ad un documento di indirizzo sull'uso dei social media e ad una pubblicazione ampia che possa fare da punto di riferimento per tutti i colleghi, perché nel frattempo è cambiato tutto, un'altra volta in pochi anni siamo arrivati ad un uso estremamente diffuso dei social e di tutte le altre strutture, nel 2013 non si poteva pensare a delle app, a delle chat, dei chatbot, ai podcast, a tutto quello che si riesce a realizzare in termini anche abbastanza consueti, vi dico soltanto che oggi anche soltanto con queste piattaforme su cui oggi tutti noi ci muoviamo nel gestire gli incontri, noi arriviamo anche ad una diffusione, ieri abbiamo fatto un incontro sulla che si chiama la PA portata di smartphone, sulla comunicazione social abbiamo avuto 5500 visualizzazioni, quindi contatti che mai sarebbero stati pensabili per gli incontri in presenza. In questa nuova dimensione abbiamo sviluppato uno studio attento sull'uso dei social media come veicoli di sunlight, sunlight è una parola che nel diritto anglosassana indica appunto la capacità di accendere la luce sull'attività pubblica, la trasparenza è il modo di accendere la luce sull'attività pubblica, quindi la prima questione è questa, in queste mie slide vi sono dei richiami per testuali che poi volendo potrete utilizzare se volete approfondire, ma lo facciamo in questa sede per non allungare e complicare troppo l'incontro che è molto breve, questo è il meccanismo che attualmente noi partiamo, questo dovrebbe essere l'effetto sunlight, l'idea della trasparenza come servizio pubblico, ognuno di voi può giudicare anche all'interno della sua amministrazione quanto questo sia effettivo e quanto questo invece ci sia un anelito che resta sulla carta. L'articolo 10,9 del decreto 33 2013 confermato dal 97 2016 dice che la trasparenza va intesa come una dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi, quindi è un richiamo alla trasparenza intesa non come wireismo, ma la trasparenza intesa come controllo di qualità sui servizi. A questo è la finalità che cerchiamo di riportare dentro un circuito virtuoso nelle attività pubbliche. Vedete sul sito foia.gov.it, a cui farò spesso riferimento perché è un repertorio molto utile e ben gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, insieme alla normativa, alle sentenze, a tante informazioni, vi è anche un riferimento, una verifica dei benefici in termini di interesse pubblico alla conoscenza che si ottengono con la scienza, il test dell'interesse pubblico che usa questi tre criteri. Guardate come sono ben centrati, anche su questo vi invito a fare un confronto sull'effettiva vita, sulla vita materiale, non sugli aspetti formali, sulla vita materiale della trasparenza nella vostra amministrazione e nell'ambito pubblico. Una migliore comprensione del dibattito pubblico e delle scelte, cioè la trasparenza serve a capire cosa le amministrazioni stanno facendo e perché, una maggiore partecipazione alla formazione della decisione e alla vita politica amministrativa, quindi un aspetto partecipazione e convalorizzazione del controllo diffuso a fini di responsabilizzazione, quindi accountability, degli apparati pubblici. Quindi, a proposito di sunlight, aspettate un secondo che accendo una luce con la sensazione che vi sia un po' lì. Un'eccessiva penombra, almeno così forse è un po' meglio. Bene, questo è il punto di partenza, il quadro in cui noi ci muoviamo. Per stare in questo ambito, in questo criterio, noi dobbiamo proporci una domanda. Questa è una domanda che si pone l'amico Ernesto Belisario, avvocato esperto di nuove tecnologie, di diritti di trasparenza, che si chiede quando noi vogliamo partire per un viaggio, vediamo ad esempio se c'è benzina nell'auto, facciamo un discorso di numeri, quanta benzina c'è, se vogliamo sapere se il nostro bambino sta bene, li misuriamo la febbre, se vogliamo sapere se possiamo permetterci una spesa, controlliamo il conto in banca. Sulla trasparenza possiamo davvero andare avanti soltanto sul principio astratto, non dovremmo porci un problema di numeri, un problema di effettiva incidenza nella vita concreta dell'amministrazione e allora su questo il nostro punto di partenza, se vogliamo fare un'analisi concreta, è proprio porci questa domanda e come seconda questione investire la nostra responsabilità di amministratori, di funzionari, quello che siamo. La nostra responsabilità come secondo queste frasi, vedete ho scelto un campione della cultura occidentale come Jean Paul Sartre che diceva che è insensato pensare di rammaricarsi, ogni situazione è la nostra, siamo in realtà responsabili di quello che facciamo, non possiamo tringerarci dietro la burocrazia dell'alibi, la burocrazia dell'interpretazione autentica, dobbiamo fare ciò che, tante cose che possiamo fare, tanti nostri colleghi che sono in prima linea nelle amministrazioni, se pensassero solo alle leggi non avrebbero mai fatto un post su Facebook, non avrebbero mai fatto un'infografica perché nessuna legge lo prevede, la legge attuale è quella a 150 del 2000 che stiamo cercando di riformare e non prevede queste cose perché non poteva, non vi era ancora il web a quei tempi, eppure tanti si sono spinti in avanti e lo stesso dobbiamo fare noi. Su questo ho usato anche un campione invece della cultura orientale, che è uno dei padri del buddismo, che dice che non fare il bene equivale a fare il male. Questa è un po' la cornice in cui ci muoveremo e quindi andremo in questi blocchi, in questo nostro percorso, poi lasceremo un quarto d'ora per eventuali risposte o confronto, parleremo prima della trasparenza intesa come un pezzo del percorso delle riforme al servizio dell'accountability, poi racconteremo tutta la storia del FOIA molto rapidamente, ma lo vorrei raccontare in una forma originale su cui mi sono concentrato partendo da un webinar interno al FORMEX e poi ho un po' sviluppato, raccontando la storia della trasparenza come un romanzo, come un romanzo che tutti noi conosciamo e di cui vi parlerò fra un po', provocandovi forse una leggera sorpresa. E poi andremo a vedere come la rivoluzione digitale è il veicolo vero di sales, cioè la trasparenza diventa uno strumento che si può realizzare attraverso i social media e quindi vedremo i lavori in corso su cui attualmente sono particolarmente impegnato. Vediamo qui il primo slot. Questo è il percorso legislativo che io di volta in volta aggiorno da alcuni anni, perché continua ad essere una marcia legislativa che parte dalla 241 del 1990, la legge sull'accesso agli atti, e passa per altre importanti tappe del percorso normativo. Ognuno di noi, chiaramente, soprattutto chi ha una formazione giuridica come la mia, conosce magari nel dettaglio il Decreto 29, oppure le leggi Bassanini, la legge 150, naturalmente, alcune direttive, la riforma Brunetta, la riforma Madia, quindi riforme complessive gestite da ministri di diverso colore, che sono andati sempre nella stessa direzione, quella di dare centralità al cittadino. Se pensate a questo percorso, tutte queste leggi dicono una cosa sola, che il cittadino è il protagonista della vita pubblica. Quanto poi questo ospicio si sia realizzato, ognuno di noi può giudicare. Infatti ho messo una smile piena di risate, lasciate correre, inciamperanno. Oggi siamo in una fase nuova, ancora nuova, attraverso quella che abbiamo chiamato legge 151, cioè il percorso di riforma della 150, ma anche le semplificazioni, la riforma della trasparenza e lo smart working. Siamo in una condizione in cui la trasparenza rispetto al passato è diventato un argomento piuttosto consistente, piuttosto diffuso, non è più soltanto, vedete qui c'è addirittura una pubblicità che fa riferimento alla trasparenza, la trasparenza è diventata una parola chiave anche del dibattito politico, ma di fatto abbiamo avuto un percorso ad ostacoli. Nel 1990 la prima legge che introduce la trasparenza nel nostro sistema, la 241, parla di trasparenza limitata, cioè la trasparenza può essere esercitata, l'accesso agli atti è un mio diritto quando io dimostro di avere un interesse diretto, concreto e attuale. E questo è un meccanismo sospeso fra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo. Il professor Sabino Cassese, ho l'onore che fu il mio relatore alla mia tesi, quindi conosco gli insegnamenti fin da anni molto lontani, già di anni molto lontani diceva che questo interesse legittimo, cioè questo diritto soggettivo affievolito era un'anomalia del diritto amministrativo, cioè in sostanza rispetto ad un diritto verso un privato, io ho un diritto soggettivo, rispetto allo Stato questo diritto soggettivo si affievolisce. E non soltanto, ma questo era così chiaro che già nella legge 241 vi era un articolo, il comma 3 dell'articolo 24, come modificato nel 2005, quindi qualcosa che si è protratto addirittura 15 anni dopo, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato. E questo è un meccanismo che sulla 241 ribadisce anche il Consiglio di Stato con una sentenza del 2017, cioè cosa vuol dire questo in soldoni a proposito di numeri? Vuol dire che io posso, secondo quella legge, ottenere un documento, ma devo dimostrare che interessa a me, non posso dire che lo voglio ottenere nell'interesse di tutti. Ho fatto un concorso, voglio capire perché non sono stato ammesso, ho partecipato a una selezione per una borsa di studio, devo capire perché non mi è stata data, ho il diritto, ma se voglio capire se è stato ben gestito l'interesse pubblico all'imparzialità, all'uso oculato delle risorse pubbliche, non posso farlo, perché la legge mi dice che non posso controllare il sovrano e il Consiglio di Stato lo ribadisce addirittura 27 anni dopo. Questo è l'impianto della 241. Non solo, ma il problema era ostacolato dal fatto che nella 2000 la comunicazione pubblica, secondo quello che dice proprio la legge 150, è finalizzata a illustrare le leggi dei cittadini. Oggi diremmo che la comunicazione serve a illustrare le leggi dei cittadini, non lo direbbe nessuno, perché è qualcosa di completamente anacronistico, ma la legge attuale dice proprio questo. Nel Decreto 33, lo vedremo tra breve quando affronteremo il romanzo del FOIA, piovono centinaia di adempimenti dall'alto, con nessuna verifica e nessuna comunicazione. Le chiamerei le carte dei non servizi, perché alla fine il Decreto 33 impone molti adempimenti, introduce le sezioni amministrazione e trasparenza nei siti, fa fare un piccolo passo avanti, ma in pratica non crea un cambio vero di cultura. Col Decreto 97 invece arriviamo alla trasparenza totale, cioè io posso chiedere qualsiasi documento, indipendentemente dagli obblighi di pubblicazione e indipendentemente dal mio diretto e interesse specifico. Però di fatto creo un meccanismo audit di controllo, ma non di vera partecipazione. Non ci sono dei meccanismi che permettano ai cittadini di utilizzare questo diritto. Quindi noi abbiamo oggi una situazione sfalsata, perché da un lato abbiamo una condizione in cui ad esempio l'intelligenza artificiale nel Silicon Valley arriva a prevedere delle figure professionali che sono i digital conversation designer, cioè dei tecnici che insegnano all'intelligenza artificiale a rispondere ai quei siti, cioè nel senso che quando noi troviamo un risponditore automatico diventa sempre più bravo perché c'è qualcuno che lo aiuta ad imparare, come può succedere anche in una qualsiasi nostra abitazione con Alexa, con Siri, con l'assistente di Google. Nello stesso tempo in Italia facciamo i primi passi ad esempio con l'app Io, che in questi giorni è molto famosa perché per la prima volta si è capito che se non altro con l'interesse economico si può stimolare l'interesse ad approfondire e ad usare una tecnologia. In questo caso parlo del progetto Cashback. Su questo io ho scrissi, questo poi chi vuole possiamo sentirci per questo dossier, che parlava del perché la trasparenza parte, questo l'ho scritto un anno fa, parte con grandi orizzonti ma anche in modo completamente rallentato. Arriviamo quindi a quella che l'amico maestro Stefano Rolando chiamava la signora Maria negli anni Ottanta. La signora Maria è una protagonista che però in realtà non entra effettivamente nel lavoro della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione resta un soggetto, un emittente senza un vero interlocutore. Il cambiamento, lo accenno adesso ma lo riprenderemo chiaramente più avanti, è questo, che siamo arrivati alla tecnologia digitale che se ci fate caso sono un passepartout per la trasparenza, per gli standard di servizio, per la performance, per la customer, per il marketing, per l'immagine, per la comunicazione. Cioè col digitale diventa, secondo anche i criteri dell'open government, questo progetto del gruppo di lavoro inserito nel quarto piano open government, quindi esiste un riferimento nell'Ocse per rendere il governo aperto una best practice comune nell'ambito europeo. Ecco, il digitale diventa una possibile finestra sul futuro ed è indubbiamente questo il percorso che attualmente è eseguito dall'attuale ministra Fabiana Dadone, che è intervenuta ieri a concludere i nostri lavori, che parte da principi fissati dai suoi predecessori, la PIA Digital First, la cittadinanza digitale della riforma Madia, la performance della riforma Brunetta che diventa per oggi una performance partecipata dai cittadini attraverso anche lo smart working. Proprio ieri c'è stato un incontro a cui ho partecipato che parla della nuova performance basata sulla valutazione partecipativa legata allo smart working e anche le due riforme, la trasparenza totale, c'è una commissione gestita dal professor Mattarella e un'altra che coordino io sulla riforma di queste due leggi. Vedete qui sono delle frasi che hanno un'importanza notevole. Però su questo parto da un criterio, il forum dell'APA ha riferito che secondo una stima nel primo lockdown lo smart working ha permesso di recuperare duecento due secoli di tempo, il tempo liberato dalle incombenze dei trasporti, degli spostamenti, dei soggiorni fuori città. Ecco è un capitale, così come le risorse, che si inserisce in una pubblica amministrazione che invece vive una condizione che io definirei davvero di dopoguerra. Una condizione in cui l'età media del personale è di 50,7 anni, 16,9 dei dipendenti è over 60, mentre il 45 è over 54, solo meno del 3% sono sotto i 30 e guardate gli altri dati sulla sulla formazione che permette oggi una giornata media di formazione all'anno. In dieci anni 2012, 212 mila persone in meno e guardate un po' i dati che raccontano assolutamente una condizione di grandissima sofferenza, di mancati investimenti, di riduzione di risorse, di invecchiamento e poi a questa stessa amministrazione si scarica addosso il peso di malfunzionamenti e si chiede per esempio durante il periodo della pandemia di offrire prestazioni straordinarie. Questa è una delle contraddizioni che noi viviamo e su questo vi sono i lavori in corso, di cui parleremo alla fine dell'incontro. Abbiamo presentato il 16 giugno un documento in dieci punti, tutti questi sono cliccabili, quindi su tutti questi potete, sono tutti reperibili facilmente sul web, un documento sull'indirizzi per la riforma della comunicazione con una mia relazione di accompagnamento che spiega questo percorso e il lavoro per le social media policy, un lavoro che si collega a quello fatto dalla commissione presieduta dal professor Mattarella, che non è solo il figlio del Presidente della Repubblica, ma è soprattutto un grande nome del diritto amministrativo italiano. Quindi c'è praticamente un percorso che lascia ben sperare. E su questo adesso possiamo, dopo aver fatto questo inquadramento generale, giusto per capire che non stiamo parlando, non stiamo assolutamente parlando di un argomento settoriale, stiamo parlando di qualcosa che è al centro delle policy di riforma del Paese, raccontiamo adesso come funziona il foglio. Qua siamo in una platea composta in gran parte di comunicatori, qualcuno probabilmente non ha una conoscenza approfondita di questa materia e quindi io la voglio raccontare in una maniera che potrebbe essere compresa da tutti, ma anche dai nostri figli o dai nostri genitori, perché tutti conoscono i promessi sposi. Questo è il romanzo in cui, ecco perché il titolo di questo webinar, questo matrimonio, sa da fare. Oggi il FOIA prevede un accesso non più limitato dall'interesse soggettivo specifico e diretto della 241, né dagli atti su cui c'è obbligo di pubblicazione, come nell'articolo 5 del 33. Questa è oggi la condizione della trasparenza, che però ha una storia che voglio raccontare come un romanzo. Vedo che ci sono problemi di audio, non so se c'è per tutti, spero che i nostri tecnici possano risolverli. Ecco il romanzo del FOIA italiano, parte così, e quindi mi affianco in piccolo, molto in piccolo, vedete, affianco all'autore del romanzo originale. Vediamo un attimo questo dramma, è un dramma che prevede veramente un cast stellare. Abbiamo la trasparenza totale nel ruolo di Lucia, quindi in sostanza l'oggetto del desiderio, della brama amorosa di Renzo Tramaglino, che è il cittadino, perché il cittadino italiano è comunque da sempre in marcia verso questo ruolo, questa possibilità di unirsi alla trasparenza. Ma c'è chi mette i bastoni fra le ruote, la burocrazia difensiva, ma anche il linguaggio che la pubblica amministrazione aiuta, adotta, e anche tutti i cavigli legislativi. Don Rodrigo, la zecca garbuglia e l'innominato hanno un ruolo molto forte all'interno di questo romanzo. E poi però c'è anche la possibilità di prendere queste norme e restringerne la loro ampiezza, è un'altra forma che interviene quando le cose si mettono bene, in questo caso abbiamo la Gertrude, la monaca di Monza, e poi però esiste anche un esercito della salvezza, la società civile nel ruolo di Agnese. Il Consiglio di Stato vi sorprenderà, ma più volte è intervenuto nel ruolo di Fra Cristoforo, e poi però torniamo a questa oscillazione, il legislatore va avanti e indietro, diventa una sorta di don abbondio, che però potrebbe essere definitivamente, se prevarrà questa nostra interpretazione che oggi proponiamo, che si sta diffondendo nell'ambito comunicativo, la divina provvidenza, quella che Manzoni metteva alla base di tutta la nostra vita, diventa quello che possono fare, che può fare la tecnologia digitale. Se la utilizzeremo in modo sistematico e professionale, con i giornalisti e i comunicatori non più imbalsamati nel ruolo dei capponi di Renzo, cioè i capponi che destinati entrambi alla pentola si beccano senza rendersi conto del loro destino, ecco noi potremo arrivare ad una ad un esito favorevole, ad un esito positivo, riuscendo anche ad aggirare i bravi di Don Rodrigo nell'ambito, nel ruolo che interpretano il Covid-19. Questo naturalmente è un percorso che potrà sembrarvi estremamente suggestivo, ma sicuramente avrete bisogno di qualche spiegazione, ma adesso le seguiremo. Possiamo stare tranquilli che il percorso riuscirà a dare delle indicazioni sulle basi normative, sull'intralci e sulle vie d'uscita, senza per questo, come ho scritto nel titolo di questo capitolo del seminario, senza darci la sensazione che la trasparenza sia una materia polverosa in cui moriremo di adempimenti. Il romanzo comincia nel 1908, quel ramo del lago di Como c'è in realtà nel Parlamento italiano, quando il deputato Filippo Turati, fase ancora prefascista, una fase ancora in cui lo Stato può sperare in uno sviluppo democratico, quando un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro. Molti, tra questi io, mettono la storia della trasparenza, danno la storia della trasparenza, questa origine profondamente nobile, importante dei padri della storia italiana. Dopo la guerra, con il ritorno alla democrazia alla Costituzione, c'è l'articolo 97 che, come sapete, dice che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare buon andamento e imparzialità. Vedete queste parole così preleggenti che sembrano indicare il buon andamento, la trasparenza accountability, l'imparzialità, la trasparenza anticorruzione, le due facce della stessa medaglia. Nel frattempo di trasparenza parla De Gasperi, parla Inaudi, parla Saragat, parlano tanti dei protagonisti della vita pubblica. E arriviamo al 2015, quando il Presidente della Repubblica alle Camere riunite dice che per la nostra gente il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni. Quindi l'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo, cioè il Presidente della Repubblica dice che non vi sognate di considerare l'attività pubblica come un'attività adempitiva che si svolge negli uffici. Quello che conta è ciò che arriva davvero alla persona che entra in un ospedale, in un municipio, in una scuola, in un tribunale, in un museo. Quindi dobbiamo, questo investimento sul front office, io ripeto spesso, che andrebbe appeso in tutti gli uffici pubblici a fianco alla foto del Presidente, perché si tratta di un richiamo a ciò che spesso viene dimenticato, cioè che l'amministrazione esiste per chi la deve usare, per chi la deve incontrare, non esiste per chi invece gestisce il back office. La secca Garburi è però sempre presente, interviene subito, da sempre, da quando lo Stato italiano prende vita, nel 1861, vive di deviazioni. Vedete queste frasi che nei promessi sposi facevano girare la testa a Renzo Tramallino, al cittadino, vado a chiedere all'URP per chiedere il CUP e considerare il DURC a RUP, il MIS ha chiesto al MIT di acquisire il concerto del MIS, queste sono frasi di un simpatico romanzo di Alfonso Celotto, un dirigente pubblico che è capace di autoironia, che scrive, si identifica in un personaggio immoginario, il dottor Amendola, e racconta come l'amministrazione si ripieghi su se stessa attraverso il linguaggio. Ma nonostante queste difficoltà, nel 2013 le pubblicazioni di matrimonio fra Renzo e Lucia arrivano attraverso il decreto 33, sistema impermeato su obblighi di pubblicazione e controllo diffuso, articolo 1 e articolo 5, cioè in sostanza la trasparenza italiana viene, siamo governo tecnico, ministro Filippo Patroni-Griffi, l'anno prima c'è stata la famosa 190 sull'anticorruzione, arriva una sorta di trasparenza molto condizionata dal clima di quegli anni, un clima molto teso nel paese, e dice in sostanza le amministrazioni devono pubblicare un certo numero di atti. Servo e i cittadini possono chiedere di pubblicare gli atti che non vedono pubblicati. Gli adempimenti sono un numero che venne contato 271 e si creò quella che ho definito la mistica del sito perfetto, cioè il problema è la necessità di rendere il proprio sito completo dal punto di vista degli adempimenti. Questo è l'impatto che ha, perciò parliamo subito sotto la trasparenza niente insieme ad altri colleghi. Nel 2013 l'articolo 1 non prevede la promozione della partecipazione, punto molto importante perché la svolta del 97, del decreto 97 e del 2016, un tre anni dopo, cambia le carte in tavola anche per chi fa comunicazione. Nel 2013 abbiamo di fatto un flop. Il ministro Brunetta aveva lanciato la trasparenza sia per controllare gli abusi, ma anche per fare controllo civico. Di fatto vi è una riduzione del ruolo della trasparenza, una minimizzazione che viene trasformata dal clima di quegli anni, dal rilievo mediatico legato alla 190 2012, in una forma di wireismo. Devo andare a capire quanto guadagna Tizio, devo andare a capire chi sono i consulenti di Caio, tutte cose importanti, perché è naturale che il controllo serve, ma naturalmente la trasparenza intesa in questo modo diventa veramente uno spiare dal buco della serratura. Il wireismo sostituisce l'accountability. Eppure i cittadini, in una interessante inchiesta realizzata nel Forum PA del 2014, vedono in gran parte, vedete, almeno quasi la metà, spera, pensa che la trasparenza possa essere legata alla performance più che al wireismo. Ma non accade questo. Accade che il responsabile trasparenza, guardate i compiti che aveva a quei tempi, controlli ad impimento, vedete le cose che deve fare. Nelle cose che deve fare, la cosa fondamentale, soprattutto la seconda, dovrebbe assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni informazioni. Ma sostanzialmente di tutti questi compiti c'è un compito fondamentale che manca. E se voi ci pensate un attimo, adesso che ve lo rivelerò, direte che era il dente. Cosa manca? Uno deve fare trasparenza, deve controllare l'adempimento, assicurare la competenza, segnalare i casi, aggiornare il programma, addirittura assicurare la loro attuazione responsabile di danno di immagine dell'ente. Ma manca la cosa principale, capire se questa cosa serve a qualcuno, capire se qualcuno usa la trasparenza, capire come fare a far sapere che c'è questo nuovo diritto. Questo non è neanche previsto, figuriamoci se è fatto. Infatti nessuno si occupa di questo. La mistica del sito perfetto porta a concentrarsi sulla bussola verde, un software che la funzione pubblica mette a disposizione, per capire se il tuo sito è in ordine. A questo punto noi abbiamo una sorta di bussola verde che si basa sul fatto che tu hai i cassetti con i titoli in ordine, cioè amministrazione trasparente, organigramma, appalti, c'è in ordine i titoli dei cassetti, la bussola diventa verde. Se il cittadino è interessato, se percepisce l'utilità, se usa questo strumento, non interessa a nessuno. Da questo noi continuiamo perciò a lavorare sulla trasparenza comunicativa, cioè una trasparenza che serve all'accountability e alla verifica degli standard di servizio, a un modello open che oltretutto si estende ben oltre gli obiettivi di pubblicazione. Su questo io feci con un collega, con il collega Marco Barbieri, che era allora capo dell'ufficio stampa dell'Inps, lavorammo su una pubblicazione che diceva queste cose. Arriviamo quindi alla normativa della trasparenza, 271 adempimenti, li contò il presidente della Civit, che poi diventò ANAC, Antonio Martone, e lui disse noi con 271 adempimenti non è che possiamo star dietro a tutti, ne controlliamo un centinaio. Alla fine arrivarono a controllarne una ventina per dire com'è assurdo, e qui c'è una cosa divertente che ho cito tanto, non posso approfondire, ma c'è addirittura, qualcuno di voi lo ricorderà, fra lei gli adempimenti viene anche addirittura quello di pubblicare le attestazioni e le dichiarazioni dei redditi concernenti diritti reali su beni immobili eccetera eccetera, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, cioè in sostanza dovevo pubblicare tutti i miei redditi, ma non solo i redditi, pure tutti i diritti reali, ma anche per il mio coniuge non separato, quindi l'unica salvezza era separarsi, che già ci mancava solo questo, l'incentivo alla separazione ulteriore oltre a quelli che già ci sono, ai parenti entro il secondo grado, non so se mi separo non pago l'Imo e non ho manco bisogno di pubblicare i miei redditi, e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Ecco, la presidente che sostituì Martone alla Civit scrisse espressamente il coniuge non presta il consenso. Arrivavamo a questo paradosso che è veramente simpatico della burocrazia italiana, per cui si chiedeva una cosa talmente impossibile, talmente assurda, che neanche il presidente della Civit alla fine la realizzava. A questo punto entro in campo la società civile, la Agnese, nella funzione della società civile e Fra Cristoforo, che arriva ad aiutare Lucia nella sua funzione di Consiglio di Stato. Come mai direte? Questo lo vediamo subito. Si comincia a creare un percorso partecipato che viene gestito da associazioni della società civile e dicono che noi dobbiamo riformare questa trasparenza mondica. Dobbiamo parlare di silenzio rifiuto, cioè non è possibile che l'amministrazione possa rispondere col rifiuto senza motivare, non deve avere costi per il cittadino, non vi deve essere per il cittadino la necessità di specificare chiaramente i documenti oggetto di accesso, perché se no la trasparenza a volte si usa proprio perché non so quali sono i documenti che voglio. Chiedo capire se ci sono. Le eccezioni non possono essere generiche, ma catalogate per tutelare il diritto di accesso. Il rifiuto deve essere sempre motivato, devo poter ricorrere non solo al TAR per motivi di costi. E sia l'ANAC sia il Consiglio di Stato fra Cristoforo dicono che la trasparenza serve alla partecipazione, per gestire la trasparenza serve un helpdesk unico, perché l'helpdesk unico è l'unica possibilità di dare al cittadino un interlocutore reale per esercitare questo diritto. E quindi arriviamo alla delega del DL 90 2014, governo Renzi appena insediato, a giugno arriva la legge delega che porta alla 124 del 2015 riforma Madia, che nell'ambito della trasparenza, vedete, dà una serie di indicazioni, tra cui ad esempio la riduzione degli oneri, la valutazione dei risultati, ad esempio fasi dei procedimenti di aggiudicazione e esecuzione degli appalti pubblici, tempo medio di attesa e per le prestazioni sanitarie. Quindi diciamo che si tratta di una serie di questioni centrali dell'accountability. Quindi c'è una delega interessante che viene gestita anche dall'attività di associazioni della società civile. E si arriva al Decreto 97 che viene chiamato accesso civico generalizzato. L'articolo 5,2 è il punto chiave della nuova amministrazione pubblica italiana. L'articolo 5,2 del Decreto 97 dice che il cittadino può ricevere qualsiasi documento o atto o informazione non più limitata né all'interesse soggettivo della 241 né agli atti su cui c'è obbligo del Decreto 33. E la trasparenza diventa la normalità, principio del controllo diffuso che diventa a sua volta l'architrave del sistema. Le eccezioni sono espressamente elencate nelle guida ANAC garante privacy, quindi sono pubblicate già nel dicembre del 2016, vengono pubblicate le eccezioni catalogate. Il cittadino deve ricevere una risposta entro 30 giorni, che diventano 40 in caso di controinteressati, con un provvedimento espresso e motivato. Il rifiuto deve essere sempre motivato e legato a un pregiudizio concreto, non astratto, non posso dire non ti do questo documento perché teoricamente può provocarmi poi dei problemi. No, devo dire qual è il pregiudizio concreto. Se c'è un rifiuto posso ricorrere al TAR, ma anche al responsabile trasparenza o al difensore civico lì dove ci sia. L'accesso civico è gratuito, salvo i costi materiali di riproduzione degli atti. Ed è un ambito di applicazione ampissimo, vedete come veramente va oltre l'ente pubblico in senso stretto. Nel frattempo passiamo, come nome non è un grande salto di qualità, ma anzi se vogliamo è una resa all'idea un po' poliziesca della trasparenza, per cui dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità si passa all'autorità nazionale anticorruzione. Però bisogna dire che l'ANAC in effetti ribedisce che l'obiettivo della trasparenza non è l'anticorruzione, ma è la partecipazione, la trasparenza accountability, cita addirittura la trasparenza come garanzia delle libertà, il trattato di Lisbona e poi conclude con questa frase molto importante, come previsto nella 190, il principio della trasparenza costituisce inoltre misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto dell'anticorruzione. Nella vita concreta dell'amministrazione non è andata così, il punto fondamentale è stato quello, l'attrazione fatale è stato sull'anticorruzione. Sembra che l'amministrazione sia una sorta di banda di malfattori che ha come unico obiettivo quello di essere controllata o di autocontrollarsi, perché l'obiettivo è quello di impedire abusi. Non è che gli abusi non esistano, non è che la necessità di controllare non sia importante, ma naturalmente l'obiettivo della trasparenza nell'impostazione anche originaria della riforma del decreto 150 del 2009 era quella di creare un controllo sulla qualità del servizio, fatto in modo partecipato con il cittadino. A questo punto l'uomo non osi separare sopra il foglio unito, c'è stato questo matrimonio, piano triennale prevenzione, corruzione e trasparenza va fatto entro il 31 gennaio. La sezione trasparenza deve essere chiaramente identificabile, deve essere un atto organizzativo fondamentale con soggetti che diventano responsabili delle varie fasi della pubblicazione. C'è quindi una sorta di idea molto pressante, molto cogente riguardo all'organizzazione della pianificazione. Vi deve essere un legame organico, a questo punto segnatevelo perché ci torneremo, con gli altri strumenti di pianificazione, in particolare con la performance, perché in tante cose dette non hanno poi seguito, perché la burocrazia difensiva riesce a creare sempre, come la burocrazia dell'alibi, la burocrazia del rinvio, riesce sempre a creare un ostacolo quando le norme parlano di prestazione giudicata dal cittadino. L'articolo 6 del decreto 33, ribadito dal 97, dice che il dato non può essere un dato qualunque, ad esempio un pdf buttato lì, un bilancio gettato lì nell'arena come se tutti fossero in grado di leggere un bilancio pubblico. Il dato deve essere integro, costantemente aggiornato, completo, tempestivo, semplice nella consultazione, comprensibile, omogeneo, facilmente accessibile, conforme ai documenti originali, con indicazione della provenienza e riutilizzabile. L'esigenza è di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse che non può comunque costituire un alibi, vedete come l'alibi ritorna persino nella percezione del legislatore, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione. L'articolo 6, un articolo importantissimo ma spesso dimenticato, dice che il dato deve essere un dato sostanzialmente gestito dai comunicatori, dai giornalisti, non certo dagli avvocati degli uffici legali che hanno tante qualità, ma non certo quella di essere portati alla comunicazione e all'interazione col cittadino. Quindi non deve essere una scusa per ritardare, ma il dato deve avere queste caratteristiche. Questo è un altro punto fondamentale che ci porterà rapidamente sull'importanza dei social media. La trasparenza sui servizi. L'articolo 32 dice che le PIA e i gestori sono da pubblicare le carte dei servizi e poi vi sono anche dei riferimenti, pensate nell'ambito sanitario quanto è importante. Ecco, io voglio dire, sono certo che vi sto citando parti della legislazione che non conoscete, perché sono le parti di solito non citate, non dimenticate, ma di noi tutti conoscerete gli articoli che stabiliscono, ad esempio, come deve essere gestita la sezione amministrazione trasparente, rendano gli adempimenti più centrali dell'effettiva qualità del lavoro. Arriviamo quindi ai tre accessi, l'accesso documentale 241, l'accesso civico semplice, articolo 5,1 del 33, che viene poi ribadito, al 5,2 arriva invece l'accesso generalizzato, il FOIA, la trasparenza totale. Gli accessi vengono mantenuti in tre, creando un grande caos. Questo io non ho mai condiviso, questa scelta del legislatore, però questa è, esistono attualmente tre diversi livelli di accesso. Nel febbraio 2017, io ho anche il piacere di collaborare ad una circolare della funzione pubblica che spiega, vi consiglio di leggere perché è molto rapida, molto incisiva e semplice, mentre la legge è più complessa, l'articolare 2 del 17 parla di come applicare la trasparenza inserisce il criterio del dialogo cooperativo con i richiedenti, che ad esempio un TAR, il TAR della Puglia, ha definito criterio immanente della nuova normativa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in parole povere, ma molto semplici, io non posso dare un rifiuto senza aver capito bene cosa vuole il mio utente. L'utente può anche dire delle cose generiche, può anche chiedere troppo, per esempio alla richiesta massiva, può anche fare una richiesta solo esplorativa, ad esempio c'è per caso qualche documento, può chiedermi delle cose che secondo le norme previste dall'ANAC possono prevedere rifiuto, ma io devo avere con lui un rapporto, devo anche fargli una semplice telefonata, non c'è bisogno di chissà quale contatto, devo riuscire ad avere esattamente come avrei con un cliente di un esercizio privato, un dialogo, un dialogo cooperativo per arrivare al risultato di ottenere la customer satisfaction e che in ogni caso aiuta anche l'amministrazione. Questo meccanismo è un meccanismo di solito che sembra scontato nell'ambito privato, se voi chiedete, se voi girate per un negozio anche solo che guardate uno scaffale arriva qualcuno a chiedervi come può aiutarvi, perché l'obiettivo è che voi compiate. Nell'ambito pubblico invece io posso chiedere diecimila volte, ma sicuramente se chi sta dall'altra parte può appellarsi a qualsiasi motivo per non rispondere non lo farà. Invece questa circolare stabilisce questo criterio che alcuni TAR considerano criterio immanente della nuova normativa. Inoltre sempre nell'articolo 8 della circolare si parla di pubblicazione proattiva, cioè le amministrazioni devono cercare di pubblicare prima quello che può servire al cittadino. Se io so che si sta parlando di bonus energetico, faccio un esempio, chiaro che è un interesse di tutti, oppure anche del programma Cashback, io pubblico quello che penso che al cittadino possa essere utile e devo avere anche un'attenzione particolare ai social watchdogs e ai mass media. Quindi in sostanza il criterio dell'amministrazione Obama, che ho cito, di fronte al dubbio prevale la trasparenza. Questo è il criterio di fondo che la circolare ribadisce. È su questo evidente che se io parlo di questo, devo poi tener conto che i social media sono fondamentali. Dove andrò a capire cosa vuole il cittadino? Mica lo posso sentire solo al bar. Ci sarà un posto dove la domanda arriva, anche la protesta arriva. Ci sarà la possibilità di creare un dialogo che diventa anche via social, anche perché, veniamo in un punto chiave del nostro seminario. Se Sergio fa una richiesta di accesso attraverso questa modalità, guardate, qui ci sono delle norme che la funzione pubblica ha messo a disposizione. Cosa devo fare prima di presentare una richiesta? Queste sono norme che dovrebbero essere dalle amministrazioni diffuse presso i cittadini, non tenute in un cassetto. Cosa si fa per poter presentare una richiesta di accesso? Poi dopo averla presentata, cosa deve fare la pubblica amministrazione? smista la domanda, chiederà chiarimenti, vedete come il dialogo cooperativo rientra negli obiettivi dell'amministrazione. I controinteressati emette provvedimento, ecco queste cose che non si potrebbero chiedere, non si possono chiedere perché sono previste dai motivi di iniego dell'ANAC e questi sono addirittura dei moduli ben precisi, sottoscritto cittadino, possono essere utilizzati e fotocopiati. Però, però, vedete quali sono i moduli che ad esempio la funzione pubblica propone e quindi arriviamo ad una pubblica amministrazione che come è scritto sul sito foglia.com.it, la trasparenza è la norma e il segreto è l'eccezione. Però, naturalmente, il concetto è, se io devo fare dialogo cooperativo, come posso capire, come posso rendere, massimizzare l'impatto con la domanda? Se Sergio fa una domanda e riceve una risposta, la riceverà solo lui. Se Sergio fa una domanda su un social o se io scrivo su un social la risposta alla domanda di Sergio, tutti quanti sapranno che cosa si risponde a quel quesito che diventa di fatto una facca a cui dare una risposta. Così come, dal punto di vista dei social, io posso fare la pubblicazione proattiva. Io sui social capirò qual è la domanda e quindi posso pubblicare le cose che so che le persone vogliono sapere. Pensate quanta trasparenza, ma anche quanto risparmio di lavoro c'è nell'uso delle tecnologie, come ha detto ieri la Ministra, e attraverso i social che io creo l'interazione, attraverso i social che mi avvicino veramente ai cittadini. Dopo il 1997 arrivano i primi scontri, ma anche le prime prove della trasparenza, mappa sulle coperture vaccinali, pensate quanto questo sia stato amaramente, diciamo, premonitore, questo tipo di richiesta, gli obiettivi di coscienza, i regali di rappresentanza, le spese di viaggio e poi le condizioni di vita dei detenuti nelle carceri, le unioni civili da parte dell'Arcigay, i finanziamenti, i consultori, vedete, vi sono tantissime informazioni di interesse pubblico che vengono ottenute tramite la trasparenza. Questo è appunto quello che dicevo riguardo alla Circolare 2, che naturalmente devono lavorare sui social media e noi riuscimmo, attraverso anche l'aiuto dell'associazione Pia Social, che nel frattempo, dopo il 1908 ci sono state varie evoluzioni, diciamo, nel 2017 nasce un'associazione che mette insieme tutti i comunicatori digitali, molto attiva, nel 2017 mi aiuta, mi sostiene a riuscire a ottenere il fatto che venga inserito, vedete, questo passaggio, per gli stessi motivi le pubbliche amministrazioni sono invitate a valorizzare la Circolare 2, nei social media, vedete, è opportuno, in desimi canali a fine di comunicazione, quindi è scritto, se non è una legge, almeno per ora in una circolare. Questa era la situazione, ma come accade in ogni romanzo d'appendice, qua poi parliamo della massima espressione della cultura italiana, fatta la legge è trovata un inganno, quindi vedete qui l'innominato, vedete Gertrude con il suo amante Michele, arrivano nella forma del fatto che, ad esempio, si comincia a scrivere che il responsabile trasparenza deve essere riunito a quello anticorruzione, salvo casi motivati, vedete l'effetto attrazione, di fatto responsabile anticorruzione e trasparenza, diventa una funzione aggregata all'anticorruzione, assenza di sanzioni, se non lo faccio non ho sanzioni, spariscono dal 97 le obblighi di rilevazione della citizen satisfaction, stiamo provando a reinserirli in termini di comunicazione, abbolita la pubblicazione dei dati sui tempi medi di erogazione dei servizi, insomma, meno comunicazione più burocrazia e anche alcuni tar cominciano ad adottare la tecnica del cavillo legislativo, cioè l'interpretazione restrittiva. Arriva il Covid e arrivano anche i bravi, la richiesta massiva è la sospensione della trasparenza, viene sospesa la trasparenza ai casi di indifferibilità e urgenza, che dimostra come nel 2020 abbiamo perso proprio di vista l'importanza della trasparenza e del digitale. Se c'è un momento in cui serve la trasparenza è proprio nel momento in cui l'amministrazione è costretta a cambiare modo di lavorare attraverso il lockdown e lo smart working e se c'è un momento in cui la trasparenza è possibile realizzare è proprio attraverso il digitale, perché il lavoro diventa molto meno fisico in quanto io devo lavorare esclusivamente su delle banche dati, eppure c'è questo tipo di pronuncia che viene per fortuna in qualche modo stroncata dall'importante sentenza 10 del 2020 del Consiglio di Stato che vi consiglio di leggere perché dice che vi è un dovere, il Consiglio di Stato è la massima autorità amministrativa, quindi non è più sindacabile o appellabile, il dovere di esaminare l'istanza anche se espressa in modo generico e anche se incerta tra la 241 e il 97. Con questo intervento di Fra Cristoforo, che dice che l'amore è intrepido, il matrimonio potrebbe farsi se noi utilizzeremo il digitale come un elemento che tende la mano addirittura al deputato del 1908 e consente di lavorare con questi dati. Questo è il disco di internet del 2019, sono dei dati tali che danno una idea di sviluppo delle interazioni talmente profonda che non è proprio possibile, è digitale, ieri diceva Francesco Giorgino nel suo intervento, il giornalista e il professore, Francesco Giorgino non è una tecnica, è una soluzione, è qualcosa che consente di lavorare effettivamente con le persone e quindi abbiamo una possibilità che amplia completamente il nostro perimetro di azione e rende possibile quindi, questo è il cuore del nostro discorso che svilupperò adesso nell'ultima parte, che l'accesso generalizzato si realizzi via social, nella sostanza quindi senza neanche le formalità, senza neanche la domanda, in tempo reale, quindi senza neppure 30 giorni che diventano 40 è il ricorso al TAR e soprattutto erga omnes, cioè do una domanda a una domanda di Sergio, rispondo a tutti. Questa possibilità è già applicata de facto da alcuni colleghi, qui vi sono degli esempi, per esempio nel comune di Napoli dove ad esempio io chiedo un'informazione in questo caso sulle graduatorie provvisorie relative, non mi ricordo a cos'era, è la risposta del collega che sta in fronte, quella che le graduatorie sono pubblicate, vi è anche un link che magari dà un'informazione in più, quindi diventa una informazione evolutiva rispetto alla trasparenza, perché se io faccio una domanda di quel tipo via foglia devo ricevere una risposta su quello, se invece faccio una domanda via social ricevo una risposta che mi consente con un semplice link di sapere una novità, ad esempio io chiedo perché mio figlio non è stato inserito nella graduatoria dell'asili nido e la persona che mi risponde non soltanto mi dà una risposta di trasparenza che vale per tutti, questi sono stati criteri, gentile signore, poi mi scrive, però vista che ci sono state molte domande è stato aperto, che so, una nuova finestra con delle convenzioni, con nuove strutture, io quindi ho un'informazione in tempo reale che magari ho ancora un altro mese di tempo per fare domanda per una graduatoria suppletiva, le amministrazioni queste cose naturalmente le fanno, pensate in tempi di Covid è tutta un'emergenza, eppure noi non utilizziamo in modo ufficiale questi canali straordinari che invece in molti casi i nostri colleghi utilizzano. Quindi arriviamo ad un concetto che a me piace molto, che è quello che apre il foglia inglese, qualsiasi informazione che deve essere rilasciata in base al Freedom of Information Act è rivolta al mondo intero. Si potrebbe anche capovolgere qualsiasi informazione che interessa il mondo intero deve essere rilasciata in base al Freedom of Information Act. Cioè chi sta pronto rispetto a un social, ci sono dei dati straordinari che sono stati anche rivelati ieri, il numero di domande che si gestiscono, il numero di contatti che si riescono a profilare, sono dei numeri che sono in termini di migliaia, non sono più gli sportelli al pubblico di un tempo con la loro faticosità, la loro macchinosità, la fila, l'aria condizionata, la persona anziana da far passare avanti, le poleniche, niente, non c'è niente più di tutto questo, la possibilità è di, con una social media policy ben fatta, di gestire un flusso molto più ampio e infatti il Formez ha fatto una sperimentazione sull'uso dei social per la trasparenza, di cui fa parte anche questo seminario, con materiali a disposizione di tutti, con la regione toscana, il comune di Vicenza e il comune di Mazzara del Vallo come amministrazione, diciamo, pilota. Quindi, i giornalisti e i comunicatori, specialisti nel fare polemiche tra di loro, come i capponi di Remisso, possono tornare ad avere un ruolo fondamentale in questa svolta, perché la trasparenza totale, torniamo alla frase iniziale, è un servizio pubblico e non è semplicemente un meccanismo di guaglierismo mediatico. Quindi, questo è un primo spoiler della riforma su cui abbiamo dato delle indicazioni col documento del 16 giugno, la trasparenza diventa un pezzo che va gestito dagli uffici trasparenza, ma insieme alla comunicazione, insieme all'OIV, insieme al responsabile per la transizione al digitale, insieme ai vertici e a tutto il personale della pubblica amministrazione. Ieri lo ha detto un sindaco che è intervenuto al nostro live, il sindaco di Bagheria, ha detto noi facciamo molta comunicazione, la trasparenza è fondamentale, ma dobbiamo farla tutti, non soltanto il nostro ufficio, tutti gli uffici devono essere coinvolti in questa idea secondo un criterio di team building. Vi sono poi molti dati, io vi invito a trovare molte informazioni su foia.gogo.it, questo è l'ultimo monitoraggio sui ministeri realizzato dal Formez, vi sono degli interessanti dati di crescita, ma siamo sempre a numeri completamente ridotti. Come andrà a finire? Nel romanzo, come sapete, l'innominato si converte, questo potrebbe essere un'ottima notizia. Quindi possiamo dire che il secco e il romanzo sono proprio queste riforme che prevedono la partecipazione. Del resto, solo dopo l'appropriazione del foia, l'Italia ha scalato 25 posizioni sulla libertà di stampa nella classifica di Reports and Frontiers. Quindi in sostanza la situazione io la vedo incoraggiante, ma soltanto a patto di utilizzare da un lato il digitale e dall'altro seguire le indicazioni del Consiglio di Stato, che aveva scritto sempre più spesso le riforme si perdono nelle prassi amministrative e conservative, nel difetto di un'adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese che non riescono a conoscere e quindi a rivendicare i loro nuovi diritti. Sembra una cosa scritta appunto da un'associazione di comunicatori, di giornalisti, sembra una cosa scritta da una struttura che non ha, oppure sembra scritta da Sabino Cassese, in sostanza da quella parte illuminata degli amministrativisti che considera il diritto amministrativo non come il diritto del sovrano, ma come una sorta di patto che tutela la parte debole del sinallagma, cioè del rapporto tra emittente e ricevente. Quindi il segreto diventa dare spazio alla regina Maria, non più la signora. Ricordo che una volta Stefano Orlando in una lezione disse, fece questo esempio, come se noi adesso fossimo qui in un laboratorio e io dicessi benissimo, facciamo delle prove di lavoro in front office, chi si vuole prestare? Per esempio la signora Giustino Filomena. La signora Giustino Filomena mi rispose, mi potrebbe rispondere come rispose una funzionaria a Stefano Orlando, ma guardi che io sono un decimo livello, come per dire, per carità, non scherziamo, non posso andare io a rispondere ai cittadini. E Rolando gli rispose, mi scusi, pensavo fosse dirigente, con una frase bruciante che mi colpì sentendo di questo esempio, perché indica come in effetti la funzione più importante dovrebbe essere proprio quella di dare una risposta a un cittadino, non è quello che pensano i nostri amministratori. E vediamo quindi una parte finale, questo dirò un quarto d'ora per vedere, parlare anche con qualcuno di voi che ha posto delle domande, per cercare anche appunto, c'è già l'impegno a non far morire gli adempimenti di noia, c'era alle 12, figuriamo alle 13. Vediamo un attimo quali sono i lavori in corso con questa rivoluzione digitale che può essere davvero veicolo di sunlight. Per esempio, nei piani trasparenza, io di recente ho fatto una lezione in Regione Puglia, vi devo dire che sono scritte cose molto interessanti. Il problema è che non c'è quindi una mancata consapevolezza strategica, c'è una mancata consapevolezza manageriale, cioè la struttura pubblica non riesce a tradurre degli obiettivi. Vedete qui per esempio nel piano Fuglia si prevede una rete dei referenti costituita dai direttori di dipartimento della Regione che porta a un ruolo di tutti i dipendenti. Quindi vedete lo schema che vi ho fatto vedere, una rete di referenti che è sempre il modo migliore per lavorare, anche qui noi per la comunicazione la stiamo ricostituendo dopo vari anni. Perché i referenti significa lavoro comune, che rompe barriere. La Regione Puglia lo prevede sul piano e sono sicuro che anche molti dei vostri piani prevederanno questo. Ma il problema è realizzarla in pratica e torniamo qui all'anelito di Sartre e del maestro del buddismo. Facciamola, realizziamola, anche se non è prevista formalmente, anche se può avere inizialmente una funzione, chiamiamola informale. Non trinceriamoci dietro le medaglie da farti intinnare dietro la formalizzazione. Vinciamo le resistenze, perché naturalmente uno dei delitti di lese a maestà dell'amministrazione è coinvolgere qualcuno in un gruppo senza l'autorizzazione del suo dirigente, ma di fatto con la comunicazione questo diventa più naturale, così come può avvenire per la trasparenza. Quindi arriviamo per esempio sempre nel piano Puglia, si prevede la spinta alla partecipazione come leva della politica regionale, la tracciabilità di ogni procedimento amministrativo, dando ampio risalto allo strumento di open data, controllo delle prestazioni, performance della sanità. Mettiamo insieme ad esempio nelle regioni i responsabili di comunicazione delle strutture sanitarie, perché la loro capacità di fare squadra porterà una ventata di innovazione anche nella prestazione sanitaria. Noi siamo in un paese che ha tra i migliori sanitari del mondo, abbiamo una sanità pubblica che nonostante i grandi tagli che hanno portato a dei problemi resta di prima qualità, ma abbiamo un grandissimo deficit di comunicazione, di capacità di accoglienza, quindi di fatto questo crea un effetto molto negativo sulla percezione comune. Porta un effetto, lo dico per tutti i colleghi che lavorano nelle strutture sanitarie, anche di mortificazione, di impotenza, perché alla fine io devo sentire e vedere sui giornali valorizzato il caso unico di mala sanità, per esempio una persona lasciata in mezzo al corridoio oppure un bisturi lasciato dentro lo stomaco di una persona operata e non invece i tantissimi casi positivi. Questo nasce da una mancata capacità di comunicazione, non dico accogliere con un caffè e un film chi viene in sala d'attesa, ma almeno evitargli quelle condizioni di isolamento che si aggiungono all'angoscia della malattia o della paura. Questo è un meccanismo che ad esempio nel piano Puglia, ma in tantissimi altri piani che ho letto, è previsto, ma è realizzato? Questa è anche l'obiettivo di coinvolgimento, gli steconder esterni, perché l'ANAC raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione da strutturale pubblicizzare per sollecitare la società civile. Facciamo queste cose che sono previste, non è semplice. La Puglia ci prova col tavolo GP, partecipa alla consultazione pubblica e crea un tavolo locale che si chiama partecipa a casa della partecipazione, registro pubblico dei rappresentanti di interesse, agenda pubblica del Presidente dei componenti della Giunta regionale. Proviamo a realizzare in pratica queste che sono delle intelligenti applicazioni dell'open government. È un libro dei sogni? Ecco questo io, non c'ho bisogno che qualcuno me lo dica, è evidente che lo è. Partecipazione, condivisione, codecisione, tracciamento, trasparenza, performance, concertazione, recupero, reputazione. Però è anche vero che alla fine nell'interpretare i sogni si può anche arrivare da Freud a Cenerentola, i sogni sono desideri e uno degli obiettivi della riforma è unificare la giornata della trasparenza alla giornata della comunicazione. Una giornata che serve a fare il punto, non è servita per niente nel campo della trasparenza, è applicata pochissimo e nel migliore dei casi a un convegno, l'obiettivo sarebbe far diventare un momento di condivisione collettiva dei problemi aperti sul tavolo. Anche perché poi la buona comunicazione contagia, quando ci vedono i risultati si comincia a capire quanto è importante e questi sono appunto i lavori in corso, di cui vi ripeto, documento di indirizzo, relazione, lavoro sulle attività, professionalizzazione, lavoro sulle прилettate, giornate e pace. Grazie. Grazie. Aspettiamo Talamo, intanto ringrazio tutti i partecipanti a questo ciclo di webinar che è stato seguitissimo, abbiamo avuto oltre 3.800 iscritti sui nuovi appuntamenti e speriamo di poter poi con l'anno nuovo approfondire diverse tematiche. Peraltro abbiamo raccolto diversi spunti, ci sono arrivati delle richieste di approfondimento anche sugli aspetti strategici della comunicazione social, ma anche sugli insight, sugli aspetti normativi, noi abbiamo raccolto tutti gli spunti che sono venuti da tutti i partecipanti e vi proporremo presto degli approfondimenti. Ecco, rivedo Sergio e gli dirò la parola. Bene, andiamo verso la conclusione. Stiamo lavorando per dare proprio delle indicazioni pratiche e concrete nel gestire questa incredibile opportunità a un lavoro che riguarda le social media policy. La social media policy è fondamentale, è praticamente il patto con l'utente. Ieri ho avuto un'interessantissima testimonianza dalla regione toscana, abbiamo fatto una social media policy, l'abbiamo poi cambiata, vedendo quali erano le risposte da parte degli utenti al nostro lavoro durante il lockdown. Si parlava di 100.000 commenti e di 2.500 risposte, cioè i numeri sono veramente fondamentali quando si entra in questo campo e io non so davvero come si possa pensare anche solo un attimo di rimanere alla vecchia amministrazione, per cui l'incontro con l'utente era solo occasionale. Quindi la carta dei servizi della comunicazione digitale, ecco, la social media policy supera il bug dell'improvvisazione ed è un patto che va sulle regole, per esempio quante ore sono aperte, cosa si può dire e cosa no, ma anche diventa un'app di tutta la comunicazione digitale, perché non esistono solo i social, esiste ad esempio un'app che io gestisco, che è sempre di più una chat. Insomma, ci sono delle cose che io posso fare che oggi veramente chi è interessato a questo tema può seguirsi in live di ieri, che è già disponibile, anche questa è una novità, tutto è disponibile on demand, non ci sono più i vecchi convegni in cui si lavorava per due mesi per 50 persone e poi tutto rimaneva lì, salvo la famosa intenzione di pubblicare gli atti, che era una cosa costosissima, inutile. Oggi abbiamo gestito un incontro con minimo 200-300 persone collegate in tutto 5500 con subito un prodotto fruibile, perché ad esempio chiunque di voi voglia saperne di più su come le amministrazioni hanno usato i social in questo periodo. Queste sono le cose su cui stiamo lavorando, spiamo dal buco della serratura, un help desk unico per la trasparenza, un lavoro di team building, l'asmistamento delle pratiche sulla trasparenza, la giornata unica e il dialogo cooperativo. Questo sempre come obiettivo di dirigere il traffico social e superare il virus e la viralità, quindi le fake news e il late speech, il linguaggio d'odio, quindi attraverso dei ban molto severi per chi diffama, per chi insulta, per chi usa un linguaggio razzista, per chi usa un linguaggio sessista, insomma tutto ciò che non è concepibile che venga visto in un profilo pubblico, neanche in uno privato veramente, però con quello pubblico noi possiamo e dobbiamo decidere, quindi arriviamo ai social per la trasparenza. Questo è il progetto di cui parlava anche Roberta, le linee guida che speriamo di riuscire a produrre entro massimo febbraio-marzo e una pubblicazione che pensiamo di produrre per maggio-giugno e vediamo se riusciamo anche a realizzare altre iniziative come webinar, premi, help desk e altre attività che dobbiamo vedere se riusciamo a realizzare attraverso il finanziamento di un progetto. Questi sono i temi sul tavolo, ton of voice, rispetto alla privacy, tempi di risposta e tutto quello che sarà per noi interessante. La social media strategy, la social media policy, un focus giuridico, questi sono proprio i singoli capitoli del libro, della pubblicazione, cercheremo di rendere chiare in modo tale che ognuno possa essere assistito nel salto di qualità nell'ambito della gestione social, però chiaramente la cosa principale è la volontà politica da parte dell'ente e dobbiamo cercare tutti di lavorare per questo cambio di passo. Abbiamo già un documento disponibile, che per riformativa renderà disponibile, che è una mappa di come attualmente le social media policy sono diffuse in una set di enti molto rappresentativo. E arriviamo quindi al concetto finale, che potrà essere sorprendente, quando abbiamo parlato della casa di vetro, qualcuno di voi avrà pensato che è un sogno. Bene, oggi noi dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre la casa di vetro. Cosa serve vedere dentro? Mi ricorda un film di Nino Manfredi, che guardava l'immigrato italiano in Svizzera, chi dentro godeva di un benessere. Noi non dobbiamo permettere che qualcuno vea, dobbiamo permettere che qualcuno entri. Dobbiamo permettere che il cittadino, in forme che possono essere poi gestite, esiste un'ampia letteratura sulla partecipazione civica, sulla democrazia deliberativa, sui facilitatori, che sono dei professionisti dell'incontro, che nell'amministrazione non sono presenti, ma non sono neanche concepiti. Ma un facilitatore è una persona che è in grado di realizzare questo incontro fra il mondo, ciò che c'è all'esterno e ciò che c'è all'interno. Noi dobbiamo creare una rete di referenti che lavori all'interno, insieme agli uffici. Poi dobbiamo creare un ponte che consenta a chi è all'esterno, che può essere il cittadino di un comune, il paziente di una ARL, o l'imprenditore che si rivolge ad una camera di commercio, che dobbiamo fare in modo che possa essere un interlocutore costante, che interviene nelle nostre policy e ci porta in sostanza a migliorare la pubblica amministrazione, mettendoci il naso dentro. E' una cosa che non è normata, non è a volte prevista, ma già a volte avviene e quando avviene migliora moltissimo le prestazioni pubbliche. Questo è l'evento di ieri di cui vi parlavo, giusto perché voi possiate eventualmente fruirne, la PA portata di smartphone che si è svolta ieri pomeriggio con un racconto di chi è in prima linea e una profilazione anche tecnica. Questo, guardate, era il programma, quindi dopo l'introduzione del portavoce della Ministra, il collega Spinato Vega, e una mia introduzione, abbiamo avuto prima una tavola rotonda con gli esperti sui temi principali, le fake news, la lingua, le piattaforme, la professionalità, la strategia Oxel, le regole giuridiche, la trincea comunale che è tra le più importanti perché è il comune e l'ente di prossimità. Abbiamo avuto delle voci dalla prima linea, vedete, da tutta Italia, enti sanitari, enti comuni, regioni, camere di commercio, commissariato Expo, CADA Italia, in sostanza abbiamo avuto ministeri, abbiamo avuto in sostanza delle testimonianze molto importanti con le conclusioni della Ministra che sono anche oggi, se andate sul sito della Funzione Pubblica, via un annuso con le dichiarazioni della Ministra, la sintesi del suo intervento finale. Quindi chiudiamo pensando che dopo tutte queste belle parole abbiamo sempre il monito di Ennio Flaiano che da una terra sempre ricca di originalità, di autoironia come l'Abruzzo, diceva che scaltritosi nel furto legale e burocratico a tutto riuscirete poché ad offenderlo, lo chiamate ladro, finge di non sentirvi, gridate che un ladro vi prega di mostrargli le prove e quando gliele mostrate a dice ma non sono in triplice coppia. Penso che sia una bella frase per indicare come alla fin fine ci sarà sempre un pericolo, qualsiasi cosa noi faremo, qualsiasi legge avremo, qualsiasi tecnologia avremo, per cercare di impigliare le cose che dobbiamo fare dentro una cornice profondamente preistorica, antiquata o se non per non dire preistorica. Questo perché veniamo da una idea statale che è quella napoleonica, centralistica, verticistica, un'idea che in Italia si è poi acuita persino con le modalità violente dell'unificazione che hanno creato una sfasatura tra diverse parti del paese che ancora oggi non c'è certamente sanata. Quindi è un'idea sostanzialmente non molto fiduciosa, io penso che la fiducia non ci sia dei cittadini verso i governanti ma anche dei governanti verso i cittadini, è una sorta di fidenza reciproca che porta a queste barriere e poi a queste divertenti ma piuttosto pericolose conseguenze di carattere concreto. Vediamo adesso allora a questo punto il qualche minuto che ci resta e scusandomi per improtrarsi, vediamo un attimo. Leoni Katia, mi dice Professor Taro, sarei ad ascoltarla un romanzo bellissimo tra comunicazione e diritto amministrativo. La ringrazio molto ma io la cosa che veramente volevo fare era quella di mettere in evidenza come le cose di cui ci occupiamo siano interessantissime, straordinarie, affascinanti perché non c'è solo la missione pubblica ma ci sono anche degli aspetti di profonda vitalità in questo scontro. Vorrei avervi trasmesso l'idea che alla fine noi non siamo fermi, siamo in cammino, in un cammino che è contrastato come tutte le cose importanti, però non è che siamo in una condizione come si pensa a volte all'esterno polverosa. Magari abbiamo qualche anno di più vista l'età media e ieri c'è stato un auspicio molto forte della collega responsabile dell'ufficio stampa del comune di Perugia, vogliamo i millennials, ha detto, quindi c'è bisogno di portare aria nuova, però in sostanza abbiamo anche bisogno di credere in noi stessi e capire che siamo dentro un romanzo di cui non è ancora stata scritta la parola finale, ma soprattutto un romanzo che si sta evolvendo e dà anche degli interventi che vanno nella direzione giusta. ringrazio molto di queste domande, vorrei sapere come convivono, ringrazio quindi Torsiglia Lestand, Raffaella Mazzapica, che sono gentilissime, io ribadisco con i miei numeri a proposito, ma ne approfitto per ribadire che questi miei numeri e riferimenti sia su Twitter, sia su mail, sia telefonici, ma anche su Skype con Sergio.Talano sono tutti a disposizione. È possibile fare una domanda, vorrei capire che convivono l'accesso documentale e l'accesso foglia. Viene richiesto accesso, allora in Palomeni Marina ci chiede, è possibile fare una domanda e vorrei sapere come convivono l'accesso documentale e l'accesso foglia. Se viene richiesto accesso a un atto, a un procedimento amministrativo, esempio di un'autorizzazione ai sensi del foglia, cioè senza che vi siano interessi legittimi, questo atto va concesso? In quest'ultimo caso l'accesso documentale non è di fatto superato? Beh, guardi esattamente quello che dicevo, io credo che aver mantenuto degli accessi sia un errore, perché sostanzialmente, sebbene la razio possa essere diversa, il più contiene il meno. Attualmente la magistratura si regola in questo modo, quando c'è una richiesta ex legge 241, viene respinta se non vi sono le condizioni. Ad esempio, se io chiedo un documento ma non ho un interesse specifico attuale e lo faccio ex 241, viene respinta, anche se teoricamente potrei invece richiedere l'accesso del foglio, ecco perché c'è la confusione. Però il Consiglio di Stato ha detto, in quella sentenza che vi ho citato, che l'istanza va comunque affrontata e attraverso il dialogo cooperativo è evidente che questo problema che lei dice si risolverebbe. Perché se io chiedo una cosa che non potrei ottenere per 241 ma posso ottenere per 97, è chiaro che l'amministrazione me la deve dare. Se faccio il contrario no, però se qualcuno mi chiama e mi dice, ma lei che ha interesse di avere il suo documento, la sua prova Sergio Talamo del concorso o vuole sapere in generale quali sono stati i criteri? Perché se vuole la sua prova Sergio Talamo ha diritto di averla se ha un interesse, ma se vuole sapere i criteri, questi criteri ha diritto anche se me li ha chiesti ex legge 241. Quindi è purtroppo in assenza di, mi auguro che la riforma della trasparenza questo fatto lo chiarisca, ma non a livello giurisprudenziale diventi, come dopo Consiglio di Stato, giurisprudenza consolidata che tutto ciò che è ottenibile via foglia deve essere concesso. Sempre Marino in Parlomeni mi dice, ma se un cittadino chiede un documento specifico e particolare ai sensi del foglia che deve fare l'APA, ai sensi del foglia, ecco siamo là, dovrebbe concederlo perché comunque non c'è un motivo ostativo, però il problema dei tre accessi è proprio questo, quello che lei sottolinea, che tante volte si crea una confusione riguardo alla fonte giuridica, quindi è chiaro che un magistrato può anche dire non ci sono le condizioni del foglia, ma ci sono quelle della 241. Allora a questo punto basta il dialogo operativo per dire riformuli la sua istanza ai sensi della 241, ecco perché servirebbe l'aiuto di un ufficio legale a chi gestisce la pratica, perché l'ufficio legale deve essere in grado, o il referente trasparenza deve essere in grado di dare questo criterio. Chiaramente questo lo può scrivere anche l'amministrazione nel regolamento degli accessi, come sapete la trasparenza prevede regolamento e registro, il registro crea anche casi consolidati, nel regolamento bisognerebbe chiarire questa cosa, dire in sostanza come il cittadino deve regolarsi a seconda della domanda che fa. Poi Assunta Penna mi chiede, vorrei chiedere a Presidente, se ci sono dei dati che ci permettono di conoscere la percentuale dell'evoluzione italiana che non possiede gli strumenti di accesso alla digitalizzazione, grazie per la lezione appassionante. I dati sono legati, ieri sono stati citati per esempio l'indice DESI che dice che c'è una digitalizzazione purtroppo ancora molto bassa che fa da contrattare invece ad uno sviluppo abbastanza importante dei software, cioè l'Italia non è indietro come app, come tecnologie, ma come digitalizzazione. Questo è un lavoro che ad esempio l'amministrazione dovrebbe fare perché insegnare a pescare è sempre meglio che dare un pesce ed è una cosa che quando si fa produce dei risultati di snellimento delle procedure veramente straordinari. Vediamo un attimo qualche altra domanda che vedo qui. L'accesso civico, dice Claudio Pascucci, tramite social andrebbe quantomeno normato a livello regolamentare, ma assolutamente andrebbe normato anche a livello di fonte primaria, cioè legislativa. Io infatti sono stato costretto a citare solo circolari, potrei citare i contratti collettivi che prevedono che lo specialista della comunicazione istituzionale e il giornalista pubblico gestiscono i social, ma purtroppo questo è un discorso che attualmente non ha avuto ancora sbocco. Però mi ripeto, già che nell'ambito pubblico, ma soprattutto nell'ambito comunicativo, la sintassi viene sempre preceduta dalla prassi, noi dobbiamo comunque andare avanti, perché avvenne questo anche nel 2000, quando arrivò la 150-2000 esistevano esperienze professionali molto più lontane, esistevano gli uffici stampa, gli URP, ma lavoravano già in un modo molto più avanzato rispetto al riconoscimento legislativo che era quasi inesistente. Io ho cominciato la mia carriera dopo la laurea, come ha detto stampa dell'Università di Roma, della Sapienza, e l'ha detto stampa, allora era una sorta di idea del rettore per poter gestire le relazioni con la stampa, in pratica non aveva, come feri del mestiere, aveva il tacquino con i numeri di telefono, una macchina da scrivere, una bella lampada, tutto il resto era da inventare. Però di fatto questa parola significava capacità relazionale, come ha detto stampa, realizzai insieme ad un giovane professore associato della facoltà di sociologia che si chiamava Mario Morcellini, non so se questo nome vi dice qualcosa, realizzammo la prima pubblicazione della Sapienza, che era una cosa che oggi fa sorridere, quattro pagine, si chiamava la Sapienza Notizie, però l'università non l'aveva fatta mai, aveva solo gli annali, che sono pubblicazioni chiaramente molto più ingestate ed ufficiali. Questo la Sapienza Notizia creò una novità nei primi anni 90, perché alla fine c'era una novità che venne realizzata da chi aveva uno strumento comunicativo, quindi ognuno di noi deve assolutamente andare avanti sui suoi percorsi pragmatici, anche se tante volte avrà la sensazione di essere più un volontario che un dipendente, avrà delle ostilità, però esistono anche tantissimi tantissimi dirigenti o manager, tanti politici che capiscono quanto è fondamentale e ricordo ancora, sempre per il racconto di un'esperienza, che quando noi cominciamo come Format nel 2016 a lavorare in modo sistematico sui social con i progetti, andiamo in Regione Abruzzo e la collega della Regione Abruzzo ci presentò una volta una ragazza, una giovane politica che era un'assessora regionale che ci disse testualmente queste parole, con queste magari ci possiamo lasciare perché sono veramente incoraggianti, disse io veramente pensavo che Facebook fosse un gioco, è una cosa inutile, che le due cose che pensano sostanzialmente molti. Dopodiché però quando ho visto che cosa dicevano di me sul Facebook ho chiesto alla collega, ad Antonella, di intervenire e dopo un po' ho capito che era fondamentale perché non soltanto perché io posso proporre, ma anche perché così posso sapere cosa si dice, anche in termini, come dire, di critiche, di polemiche, di aggressioni, ma anche di domande pertinenti che ci possono far uscire da un tunnel in cinque minuti attraverso una risposta che nella maggior parte dei casi abbiamo ma che non sappiamo di dover dare. Quindi ecco, quella esperienza mi induce anche a dirvi che il rapporto col politico qualche volta può essere un pochettino imbarazzante rispetto a certe pretese di far diventare la comunicazione pubblica, la comunicazione politica, è sempre un confine complesso, però in molti casi produce invece un input positivo perché per motivi evidenti un amministratore di provenienza politico-elettorale ha un interesse al consenso che può non essere lo stesso da parte di un dirigente. Però l'equilibrio l'ha sempre creato perché l'amministrazione è fatta dai suoi funzionali e dai suoi dirigenti mentre tutti gli incarichi politici sono chiaramente protempore. Io a questo punto vi ringrazio anche di aver resistito in così tanti fino a quest'ora e vi do la disponibilità mia del format ad ogni approfondimento e mando un saluto a tutti. Grazie, grazie al professor Talamo. Chiudiamo questo ciclo di webinar in bellezza con un grandissimo gradimento. Tra i commenti leggevo un ringraziamento per aver ridato entusiasmo. Noi ci lasciamo con l'auspicio che ci possa arrivare a una rivoluzione proprio culturale rispetto al ruolo della comunicazione e quindi anche del modo di intendere la trasparenza realmente. Vi saluto da parte di tutto il gruppo di lavoro di riformativa e auguro a tutti quanti un sereno Natale e serene feste. Arrivederci a tutti.